Buongiorno, sono l'intervistatore mascherato. E lei chi è? Io sono Matteo Murru, insegnante della Rock Guitar Academy di corsi CC Reunion e GFC. Come è nato il suo rapporto con la musica? La mia famiglia è sempre stata una grande divoratrice di musica, diciamo. Però di più ho avuto la fortuna di crescere circondato da chitarre perché mio padre è un chitarrista acustico da spiaggia. Adesso per questa esclamazione non mi farà più entrare in casa. Racconti un paio di anedoti. Mentre gli altri bambini, 2-3 anni, probabilmente guardavano i cartoni o giocavano tra di loro, il sottoscritto rimaneva inchiodato sul divano a guardare a ripetizione le VHS di Blue Springsteen, Queen, U2, Daya Straight, Zucco, arrivando a fondere nel vero senso della parola il videoregistratore. Il secondo aneddoto è che mi sentivo in dovere di replicare quello che imparavo da queste videocassette e quindi nel dopocena mi esibivo con chitarra, batteria e giocattolo intrattenendo gli ospiti. Quando arrivano i veri e propri studi musicali? I veri e propri studi musicali arrivano in età adolescenziale perché stanco di dividermi tra il campo da calcio. Ebbene sì, ho rischiato di diventare un calciatore. E la musica? Presi la decisione definitiva di puntare tutto sulla musica. Quindi abbandonai compagni di squadra, dirigenti, allenatori e dissi sai che c'è? Giocateci voi, io prendo coraggio e mi iscrivo al corso di chitarra moderna alla scuola civica a Nuoro nella mia cara amata Sardegna. E la sua famiglia come la prese? Grande lutto familiare, però la mia scelta era tassativa, definitiva e non si poteva tornare indietro. Come sono andati i primi studi? Ho iniziato a studiare come un pazzo prima di andare a scuola, un orario indicibile, veramente incredibile. Dopo scuola, la sera tardi e allo stesso tempo ho iniziato a formare i primi gruppetti con gli amici quindi persone come me interessate alla musica per poter iniziare a suonare assieme. Cosa l'ha portata alla RGA? Assoldato che la mia vera e propria vocazione dovevo fare musicista, punto. Ebbi la fortuna di essere indirizzato verso Donato Begotti e verso la Rock Guitar Academy dal mio insegnante dell'epoca. Quindi mi informai un po', presi un volo a un orario sconsiderato dalla Sardegna e andai a Milano a vedere la mia futura università. E qui ci fu il colpo di fulme, diciamo, perché rimasi veramente folgorato dalla bellezza della scuola, ma non solo dalla struttura, dalla strumentazione fantastica che avevo sotto gli occhi, ma quello che mi colpì maggiormente fu l'energia positiva che questo posto emanava, dalla segreteria, agli alunni, gli insegnanti. Nel viaggio di ritorno decisi che la Rock Guitar Academy sarebbe stata la mia scelta definitiva e mi avrebbe regalato anni veramente speciali. Perché è stata così importante? Perché come scuola non solo ha saputo tirare fuori il meglio di me, ogni scuola dovrebbe veramente saper tirare fuori il meglio dei propri alunni, ma mi ha insegnato a gestire i vari momenti della vita da studente, quindi le gioie, le soddisfazioni, i momenti di sconforto, la stanchezza, voi non sapete quanto si studi qua dentro. Comunque la RGA mi ha insegnato veramente a gestire tutto questo. Gira una leggenda, signor Murru. Mi dica. Che lei il primo anno ha viaggiato come un matto per venire a fare lezioni. È la realtà, perché io prendevo un aereo da Olbi alle 6 del mattino e tornavo a casa a mezzanotte. Quindi viaggiavo, arrivavo a Milano, mi riscaldavo, facevo lezione, mangiavo e tornavo a casa. Quando la musica è diventata un lavoro? Nel giugno 2014 mi diploma al corso CCR con il potentissimo Roberto Fazzari. Iniziai a rimbocarmi le maniche, quindi cominciai veramente a bombardare tutte le scuole con email, curriculum e allo stesso tempo a registrare dei video promozionali. Iniziai a avere il mio giro di alunni ed essere economicamente autosufficiente. In quali situazioni hai insegnato? Ho insegnato veramente in tante strutture. A quale tipo di studenti? Dai 6 agli 80 anni, campi estivi meravigliosi. Quando è arrivata la chiamata RGA? Un bel giorno squilla il telefono e leggo Donato Begotti. Era Donato che mi proponeva la creazione di un corso apposito per bambini e ragazzi, conoscendo la mia esperienza appunto con i più piccoli. E qui grandi lacrime di gioia, grande soddisfazione enorme a livello professionale ed umana. Non solo perché avevo ricevuto la chiamata del boss Donato che veramente mi ha cresciuto, ma soprattutto tornavo a casa. La soddisfazione era enorme perché da un lato potevo insegnare, fare il mio lavoro in una delle scuole top, dall'altro tornavo a casa perché io posso veramente dire di essere cresciuto dentro del RGA. Si è proprio chiuso un cerchio. A questo punto vogliamo sapere tutto riguardo i suoi corsi alla RGA. Certamente, abbiamo il corso Cici Reunion dedicato a coloro che sin da giovanità manifestano grande interesse per la musica e per studiare in maniera un po' più dettagliata la chitarra. Questo corso è pensato apposta per voi. Poi abbiamo il corso GFC dedicato esclusivamente ai più piccoli bambini e ragazzi che non hanno mai suonato la chitarra. Obiettivo primario è suonare subito, avvicinandosi alla chitarra in maniera semplice e graduale, ma allo stesso tempo professionale e divertente, in pieno stile RGA. RGA in una parola. Eccellenza. La respiri veramente non solo appena entri nella struttura per la bellezza delle aule, dalla qualità didattica inarrivabile, ma soprattutto umana degli insegnanti. Maestro Murro, ci dica qualcosa riguardo i suoi hobby e interessi. È molto semplice. Sono una persona normalissima, quindi mi piace tanto leggere, soprattutto le autobiografie, mi piace mangiare effettivamente. Vado a correre per smaltire un po' gli eccessi, diciamo, del fine settimana. Ascolto tanta musica. E altra cosa, sono gioventino, sino al midollo più del presidente probabilmente. Lo sa che Begotti è interista? Lo so, e infatti per pareggiare i conti con la mia fede giuventina, ho messo una camicia nell'azzurra per portare l'universo in parità. Donato mi diceva che lei, per volontariato, è stato diversi anni in Africa. È vero, ho fatto parte di una equipe missionaria per certi periodi estivi della mia vita, dove andavamo a fare del bene. Un continente veramente disagiato. È stata un'esperienza veramente bellissima poter insegnare chitarra in Africa. Quindi, ad essere onesti, il mio primo vero lavoro è stato fare lezioni di chitarra in Africa. Questa esperienza le ha servita? Caspita, è stata un'esperienza fondamentale perché ti rimette un po' in sesto e capisci veramente i valori della vita, capisci cosa è giusto e cosa è sbagliato. Grazie, signor Muro! La ringrazio, intervistatore mascherato, è stato un piacere immenso conoscerla. Piacere anche mio! Vi aspetto alla Rock Guitar Academy. Ciao e grazie! Grazie a tutti!